Finalmente riapre, dopo un mese di lavori intensi, il Cinema Garden, uno degli ambienti più cari a noi di Clusone, a tutte le persone che credono nella funzione educativa e anche ricreativa di questo ambiente. I lavori eseguiti a tempo di record sono stati la sistemazione dei gradoni che permettono sicuramente una distanza migliore, la sostituzione del pavimento completa, la sostituzione dello schermo, la sostituzione di tutte le poltroncine e inoltre un impianto elettrico più rispondente alle esigenze. Dunque dopo questi lavori finalmente potremo gustare questo nuovo ambiente. La comunità crede profondamente in questo e quindi anche le risorse impegnate che sono notevoli, sono risorse che però contribuiranno all'aspetto educativo, formativo dei nostri bambini, ragazzi, giovani e in definitiva delle famiglie. Siamo convinti che strutture come queste possono essere un punto di riferimento per Clusone ma anche per i paesi vicini in quanto l'offerta del nostro cinema è sicuramente competitiva. Nel senso che di tutto c'è una continuità e poi ci sono rassegne diverse di film a livello culturale, lingua originale e poi film anche quello che in un certo senso ci sta più a cuore a livello di attrattiva per i nostri bambini e per i nostri ragazzi e quindi per le famiglie. Ci auguriamo quindi che questo sforzo che abbiamo sostenuto possa essere ripagato da una presenza forte da parte di tante persone che veramente il Cinema Garden continui a essere e continui a essere ancora di più un punto di riferimento per tutti, per tutti noi di Clusone. La programmazione di questi primi due giorni, che ha visto una partecipazione massiccia di persone, è stata gratuita. Quindi un'offerta che volentieri abbiamo dato e che continuerà nei prossimi giorni con un prezzo, possiamo dire, simbolico che ci auguriamo possa ottenere la partecipazione dei tanti ragazzi. È un modo per pubblicizzare ma al tempo stesso è un modo per aiutare le famiglie a capire che questo è un ambiente nel quale con sicurezza possono lasciare che i loro bambini trascorrano un pomeriggio oppure dei momenti di svago vedendo e gustando un bel film.